Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi si riparla del caso di Denise Pipittone, arriva una segnalazione dall'Equador, vediamo. Ormai, come ho ripetuto più volte, il caso di Denise sta suscitando sempre più l'attenzione pubblica e sicuramente anche grazie agli ultimi sviluppi di queste settimane. Infatti dalla segnalazione della ragazza in Russia che poi si è rivelato un buco nell'acqua, i riflettori si sono riaccesi su un caso che in molti ormai non ci pensavano più, a parte Piera Maggio che non ha mai smesso di cercare sua figlia. Ora il web pare abbia segnalato una ragazza che vive in Ecuador. Tutto è partito da Facebook e TikTok, dove hanno iniziato a circolare le foto di una ragazza dell'Equador che ha una vaga somiglianza con Piera Maggio. Moltissimi utenti hanno avvisato Piera e il suo legale frazzita, inviandogli le immagini e il caso è sbarcato anche a Storie Italiane, dove Eleonora Daniele ha parlato di questa ragazza. E secondo qualche indescrizione, pare che anche i media sudamericani si stiano interessando alla notizia. Al momento non si conosce l'identità di questa ragazza, che secondo fonti certe potrebbe essere svelata nelle prossime ore. Quindi non ci resta che attendere per vedere qualche sviluppo. Per il momento ho concluso il video, se vi va iscrivetevi al mio canale per altri aggiornamenti. e un grosso abbraccio da Jore.